Grazie Presidente, mi scuso con i colleghi, ero distratto un secondo al cellulare, anche se ovviamente su temi istituzionali, stavo seguendo un po' di cronaca di queste ore di agenzie. Assolutamente disponibile a trattare il tema in commissione, anche perché è un tema quello dell'alimentazione dei veicoli e quindi anche del metano che si ripropone più volte. Cioè, chiaramente non è che esiste una tecnologia più pulita a prescindere, ma sicuramente esistono differenti tipologie di alimentazione con pregi e difetti, dall'elettrico, all'ibrido, al metano, perché no all'idrogeno. Quindi posso sicuramente programmare nelle prossime settimane una seduta che vada un pochino a ricomprendere queste situazioni, anche con i dati alla mano, per capire quanto è il parco circolante, ad esempio, le domobili a metano a Roma e così via. Quindi sicuramente è un tema che possiamo approfondire.